buongiorno a tutti siamo anche qui al quartiere della madonna ad almeno san salvatore nel nel negozio di alimentari gestito dal signor riva che adesso si presenta tolga pure la mascherina che abbiamo le distanze dice anche il suo numero di telefono per le consegne a domicilio riva giancarlo generi alimentari titolare via carducci 16 numero telefonico 035 64 01 09 perfetto grazie a lei